oggi in questa puntata ho veramente dimenticato mossa mossa dall'emozione perché sapete una cosa bellissima lavorare emozionando se ho dimenticato di dire che il titolo dato insieme alle nostre autrice nostri autori fosse senza no quando sei senza qualcosa quando qualcosa viene a mancare quella mancanza si trasforma in forza in tenacia in amorevolissimo ricordo che è una pianta è una pianta che cresce sempre di più che mette radici perché fatta di ricordi e fatta di amore e fatta di sapere di aver dato fino alla fine alla persona a cui avevi dedicato il tuo cuore per esempio tuo padre tutto il meglio che si potesse dare questo è il caso di una che dovrei chiamare figlia d'arte ottima eccellente giornalista grande signora e non solo perché si chiama biaggi di cognome vice biaggi direttore collegata con noi da milano buongiorno buongiorno a te ed è ed è un applauso che noi facciamo arrivare fin lassù al tuo al tuo papà di cui tu conservi conservi la la memoria e la tenerezza nel tuo cuore il papà che è scomparso il 6 novembre del 2007 quanto ci manca quanto ci manca figurati mancano i suoi lettori ma tu lo sapevi eravate costretti qui lo vediamo con la sua lei con la con la vostra mamma e dice cominciamo da questa grande storia d'amore è una storia d'amore che è durata più di 60 anni lei è stata innamorata persa di lui veramente fino alle sue ultime ore lei se n'è andata prima di lui e devo dire una coppia straordinaria nel senso che lei ha concesso a lui tutta la libertà possibile per fare quello che lui amava cioè il suo lavoro mio padre ha potuto io credo anche lavorare così tanto occuparsi dei suoi viaggi delle sue inchieste perché a casa comunque c'era una compagna che si è sobbarcata alla crescita di tre figlie e provvedeva la suocera le cognate ogni volta che c'era in famiglia qualcuno che aveva bisogno si rivolgeva a lei e lei era presente per tutti quindi è stata una donna veramente straordinaria poi era anche molto molto simpatica devo dire ed era la mamma era la parte guarda questa fotografia quanto è bella mi fa ridere questa qui siamo in campagna nella nostra casa a sasso marconi e c'è il nonno con la sua tribù c'è mia figlia lucia e poi rachele la figlia di mia sorella carla e poi la marina e pietro che sono i figli della nostra sorellina tanto amata la più piccola che anche lei se n'è andata un po troppo presto troppo presto assolutamente troppo presto e questo ci permette vedete i tanti senza della vita però convice ci permette subito di entrare in quel canale che tutti noi figli abbiamo provato quando i nostri genitori sono diventati nonni cioè da padre o mamma rigorosissimi ci solito poliziotto buono poliziotto cattivo papà e mamma no in tutte le famiglie o vicendevolmente poi come nonno enzo biaggi era a disposizione dei suoi nipotini anche con fuori orario in qualsiasi momento cioè che papà è stato e che nonno è stato allora è stato un padre poco presente devo dire non c'era mai soprattutto quando eravamo piccole ma quando c'era faceva molto sentire la sua autorevolezza la sua presenza è stato un padre severo lui chiedeva molto a se stesso e quindi chiedeva molto anche a noi non aveva delle ambizioni per le sue figlie però diceva quando fate una cosa dovete farla bene impegnarvi quindi se questo senso del dovere così era un fardello anche un po pesante soprattutto per la mia generazione perché quando mi diceva tu devi essere come un uomo devi lavorare devi essere indipendente beh insomma io avrei tante volte preferito sentirmi molto di più una donna e fregarmene di essere indipendente poi devo dire che la vita ha dato ragione a lui sono molto contenta di questo come nonno lui ha concesso tutto ai suoi nipoti cioè a casa dei nonni si poteva fare qualunque cosa e devo dire mi ricordo una volta che io e mia sorellana sgridavamo i nostri figli che avevano combinato qualche guaio come fanno i bambini lui si affacciò alla porta del suo studio e rivolgendosi a me ea mia sorella disse andate educarli a casa vostra qua possono fare quello che vogliono ma è meraviglioso genitoriale nulla veramente Enzo Biagi questo lo faceva Enzo Biagi alla domanda come si viva senza un papà così arriverò alla fine di questo nostro incontro con Bicebiagi che è l'unica della famiglia a seguire le orme del papà a fare la giornalista con tutta la difficoltà del caso perché quel nome con un papà così era uno zaino pieno di pietre che ti faceva faticare di più quando salivi le scale allora io credo che adesso vi darò una delusione intanto non avevo il sacro fuoco non avevo per niente era una ragazza che andava bene al liceo in italiano poi ho fatto lettera all'università è venuto un po da solo diciamo la verità quella di entrare in un giornale mio padre mi disse come viatico quando entra in un giornale adesso vai ho detto che non ti paghino perché già sei raccomandata quindi non ti devono pagare e ricordati che piangerai molto allora io devo dire non ho pianto e dopo un po mi hanno anche pagato qual è il risvolto della medaglia certo per non dico far dimenticare perché è un cognome che ho e quindi inutile starci a giocare però insomma non volevo propormi come la ragazza viziata che tanto faceva un po di lavoretti per caso e quindi ti devi impegnare di più però devo dire io le mie soddisfazioni le ho avute non è stato pesante avere un padre come lui perché fondamentalmente essere una donna e soprattutto come sono stata io e quindi anche con la voglia di avere un figlio di avere una famiglia ma anche di andare dal parrucchiere ma anche di giocare a burraco tutte cose che mio padre ovviamente non ha mai sperimentato per lui esisteva il lavoro e basta io ho lavorato tanto però anche mantenuto una parte una parte di vita molto molto più normale quello che posso dire insomma vice viaggi direttore certo c'è una c'è un filo che che lega questa famiglia che è quello della correttezza dell'umanità della comprensione della persona che è davanti che pur volto noto a volte ha bisogno di non dire e allora quella correttezza portava anche a capire senza perdere la notizia cosa si potesse non dire questo è evidentemente la frutta che casca intorno all'albero come dico sempre io insomma l'albero faceva ciliegie ottime e ne abbiamo ce l'abbiamo un cesto di ciliegie a milano ci sta parlando ancora ancora prima di tornare al papà e alla mamma prima di tornare a quel senza che a un certo punto diventando senza la mamma è diventato altro rapporto tra voi tra voi figlie e il papà il grande amore che in suo viaggio ha saputo la grande amicizia per amore intendo dire proprio quell'amore che legava e che creava legami straordinari abbiamo fotografie con sergio zavoli riccardo muti l'avvocato agnelli baudo fellini abbiamo tutto un mondo missoni don zeno e poi arriveremo al cardinal martini ecco papà amico com'era per lui l'amicizia era veramente un sentimento importantissimo sono i nomi che hai fatto poi ce ne sono altri garinei cesare rimini potremmo fare ed erano tutte persone con le quali lui non perdeva mai contatti la domenica mattina fondamentalmente era questo il suo momento lui la passava al telefono chiamava fillini chiamava garinei chiamava tutti i suoi amici si informava e mi ricordo questa cosa che ancora se ci penso mi commuove proprio perché ho visto la foto con sergio zavoli che per noi insomma quasi padre per me le mie sorelle e mio padre era già ricoverato in clinica pochi giorni prima di morire e sergio aveva avuto un piccolo incidente domestico non mi ricordo forse era caduto ma niente di che e mio padre l'aveva saputo volle telefonarli dal suo letto della clinica e disse guarda che se tu non ubidisci ai medici lui faceva la predica zavoli immaginiamoci vengo io a roma è vengo io e lui era in un letto di ospedale però per lui veramente l'amicizia era qualcosa di importantissimo e devo dire vedendo queste foto ma tanti ricordi e questi sono regali che ci sta facendo vicebiaggi il cardinale carlo maria martini si rivolge ad enzo biaggi e gli dice se dovessi scegliere un laico per confessarmi confessarsi martini sceglierei lei sì sì questo me lo ricordo molto bene e io lo prendeva anche un po in giro dicevo papà manca solo che tu ci confessi poi siamo a posto noi no però a questo proposito voglio voglio raccontarti una cosa mi è venuta in mente sentendo questa frase qualche mese prima un mese e mezzo prima di di andarsene un giorno lui mi telefonò e mi disse oggi pomeriggio viene da me monsignor ravasi monsignor ravasi era veramente un caro amico di mio padre sai ho deciso che mi confesso vuoi venire ma dissi papà ma ti pare che io vengo a sentire la tua confessione ma stai scherzando ma naturalmente non andai però ecco si vede che in quel momento lui sentiva non lo so ha avvertito questo bisogno e un mese dopo se n'è andato vi c'è grazie di questo ricordo dice biaggi ha ha fatto da figlia e e ha preso anche tanto il posto della mamma negli anni che hanno separato un'unione che adesso non separa più nessuno è chiaro tra tra enzo e la sua sposa e mi racconti solo nel finale quello stupore che hai provato quando lui ti fece un complimento perché perché indossavi un bel cappotto nel senso che non eravate abituate non perché fosse un papà prima un papà avaro di di affettività però ecco c'è stato un cambiamento senza la mamma sì assolutamente sì io e mia sorella carla ogni tanto proprio lo diciamo noi abbiamo conosciuto la tenerezza di nostro padre negli ultimi anni mi spiego mio padre era un uomo nato nel 1920 quindi con un certo tipo di educazione di storia e il fatto di avere delle figlie femmine credo che gli creasse anche come dire ma anche qualche imbarazzo quando noi abbiamo partorito beh insomma non dico che i nostri figli li ha portati la ciconia ma più o meno insomma per lui era un po' così e quindi c'era anche una specie di pudore reciproco anche ma era così e gli ultimi anni invece in cui noi abbiamo cercato di dargli delle abitudini cioè io andavo la mattina a bere caffè poi arrivava mia sorella carla un po più tardi in modo insomma che ci fosse una continuità anche di visite lui era diventato ma così gentile ma non che prima non lo fosse ma così affettuoso nelle sue manifestazioni che quella mattina quando io entrai lui mi disse ma come sei elegante con quel bel cappotto ecco per me non so io ho scoperto la tenerezza di mio padre grazie al capotto tenevamo moltissimo e tenevo moltissimo a questa intervista come si vive senza senza enzo biaggi si si vive così per noi suoi lettori continuiamo a vedere dice e continuiamo a leggere i suoi libri come figlia ma guarda io non credo di vivere senza mio padre sai perché tante volte mi scopro che dico delle cose che diceva lui parlo con mia figlia e lo ricordiamo leggo qualcosa e mi viene in mente cioè mi manca mi manca la quotidianità con lui mi mancano le nostre telefonate mi mancano i suoi scatti di rabbia quando gli venivano però non c'è giorno che io non sia con lui quindi non posso dire di vivere senza mio padre un pochino ma è sempre con me arriva un grande abbraccio fino a milano dice viaggi e arriva anche a voi arriva anche a voi grazie grazie dice grazie grazie un abbraccio a te grazie grazie buon lavoro questa è l'ora solare e noi ci fermiamo un istante lasciate le vostre finestre spalancate grazie